bella a tutti signori e bentorni no 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 fe 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 che 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 no mamma le mazzate che mi tirano signori neanche il tempo di partire col video partiamo malissimo partiamo malissimo ah no sto morendo male ma perché mamma le mazzate che tirano questi fermi tutti no non sono riuscito a fanno data va bene va bene va bene va bene aspettate parte malissimo questo video dai damosi damosi venite qua venite qua vi arrostisco un poco oh no no perché non ha preso fuoco quello lì perché quello lì non ha preso fuoco allora arrostiamo questi arrosticci 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 come se non ci fosse un domani ok possiamo stare un attimo tranquilli signori posso iniziare il video con calma forse sì forse no ok signori bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video episodio numero 8 del nostro cannoli il nostro vinni cannoli segnali continuiamo la nostra avventura io sono maullo 941 e oggi siamo sul mio secondo canale prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di fare un salto sul primo canale in cui portiamo altri gameplay e altri videogame mi trovate come maullo 941 vi ringrazio per il like per i commenti per il seguimento e per il supporto e vi ricordo anche di seguirmi sui social mi trovate sia su facebook che su instagram come maullo 941 dalla qui c'è un po di troppa confusione per i miei gusti no 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 la signora con la frusta anche no no anche no signori la signora con la frusta anche no anche no il gangster l'abbiamo fatto fuori forse dovremmo caricare bravo cannoli carica quelli sono fermi davanti la porta stiamo attenti stiamo attenti stiamo attenti ok mamma mia che si si fa complicata la situazione signori si fa molto complicata la situazione grai cannoli sì però devi 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 ammazzarli male cannoli dai 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 ok stiamo calmi no abbiamo finito le munizioni perfetto dammi la pistolona qui dammi questa facciamo di fuori un bel no ma porco preso appena preso un caffè mannaggia a te mi hai fatto saltata tutto dai così voi saltate in aria ok stiamo a farla sfilata sul no la tizia questa nuova sopporto non la sopporta la tizia con l'alito pesante dai canna camera calma 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 ok teste volanti e dove trovarle stiamo al night signori siamo usciti dal night ok l'ultima volta abbiamo incontrato il boss che c'ha un attimino no ma non dagli un calcio porca di una paletta ambriaca c'è un attimo di agitazione tecnico tattica ma ci rispettiamo rispettiamo che riusciamo a fare la combo dai così due su due ok calma signori calma 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 che riusciamo a fare tutto munizioni per noi un punto di salvataggio buono e un caffè per noi buono così della benzina ok no questo c'ha lo scudo c'ha lo scudo c'ha tecnicità con due calci li ha fatto volare lo scudo bella così ok quindi quelli con lo scudo si devono pia calci in faccia no 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 alzati no abbiamo preso quello dietro aspetta no ma sei un bastardo se giochi con le bombe non vale no il cappello abbiamo sferato il cappello dai così ok e anche lui ha perso la testa per noi signori 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 ti devi leva te devi leva mamma mia questi con le chiave con questa chiavozza sono terribili calma 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 ok calma ok calcione gli è volato lo scudo no l'ha ripreso gli è volato lo scudo dobbiamo dobbiamo spararli prima che riprenda lo scudo ho capito basta basta dirlo e dammi un pochetto il fucile a pompa va scariciamo un poco il fucile a pompa bello sono volati male entrambi pesante e tu voli pure male tu voli pure male ok calma 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 madonna mia doppia bomba signori e io vi rispondo con la bomba mi piacciono le bombe è arrivato un cappello è arrivato un cappello che siano morti male allora siamo calmi no 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 ma siete due stronzi siete due stronzi siete stronzi siete stronzi siete stronzi no non è morto col fucile a pompa non è morto dai così porca miseria porca miseria aia non è già lui ma è che hai tirato la bomba dal lato sbagliato zio ok abbiamo mezza vita spero no ci sono delle bombe terribili signori devi starti lontano devi starti lontano zio la quelle sono delle delle quelle dinamite pura signora ho paura che no 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 troppa cacciata signori siamo morti male siamo morti male siamo morti male signori siamo morti male no no il fucile a pompa è bello ma è lento dammi questo allora qui abbiamo tirato involontariamente la leva ed è saltato via il ponte ok mi servirebbe perché non riesco ad andare avanti no non dovevi caricare dammi la pistoletta dammi la pistoletta no ma porca miseria col calcione non facciamo più niente no e perché non c'è nulla qualcosa mi dice che dobbiamo scendere di sotto ma parliamo se scendiamo di sotto punto di salvataggio buono così buono così attenzione non so quanto mi convenga l'hanno rotta loro che non sapevo quanto mi conveniva rompere sta porta però l'hanno rotta loro e porca miseria e dai è così mi devo fare in cacchiare sempre vi do fuoco a tutti vi do fuoco a tutti vi do fuoco a tutti mannaggia aveva appena preso un caffè porca delle vostre sorelle madonna ma se non moriamo adesso non moriamo più signori se non moriamo adesso non moriamo più allora mi dai la pistoletta quella con i contro corones grazie che fa un attimo di cacciare come si deve giusto grazie sì sì tu tira la bomba tira la tira la zio ok ma porca che volete le bombe mi accontento subito tante belle esplosioni per voi munizioni per me non ci sono caffè la cosa non mi piace una leva che abbiamo tirato ma non so a cosa sia servita e porca miseria ma porca dai ok devo imparare a tirare le bombe più spesso signori le bombe e le moto più spesso siamo a cortissimo di munizioni ho tirato una bomba ma non so cosa ho tirato una munizione oh perfetto salvataggio facciamo uscire il tizio con lo scudo e lo facciamo fuori male ok ma ci debba essere il gangster che ci guarda da la ok perfetto ok siamo calmi signori siamo possibilmente i più calmi possibili mi ha preso le munizioni dammi no caricato quando aveva ancora non si no chi è quello lì quanto 100 di fuoco c'è signori dammi un po di fuoco va no così non ce la faccio no ma sei stronzo ma sei stronzo da 1 a 10 sei stronzo 11 da 1 a 10 sei stronzo 11 no ci mancava pure l'erci signori ci mancava pure l'erci dai dai in piena fronte così no 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 allora con loro bisogna essere chiari da subito ok il primo abbiamo dato fuoco a te ti piglia calcioni e ti do fuoco pure no lui lo para bastardo mi ha fatto consuma mi ha fatto consuma il fuoco a gratis a gratis mi ha fatto consuma il fuoco e mo te pigli dai così no aspetta perché fucile a pompa poi non è tanto buono possiamo andare leggermente avanti senza che succeda niente di perché ho paura lo sapevo me lo sentivo signori me lo sentivo che c'è stava qualcuno che rompeva le mamma mia ha fatto volare grande giocatore del rugby che sta dalla parte nostra lo mi fa volare in un momento a quello lì grazie ok giocatore del rugby non guarda in faccia a nessuno signori buono così io ho trovato un alleato basta prenderlo nel momento giusto giocatore del rugby ok carica carica vinni andiamo avanti andiamo avanti il prossimo che checkpoint è il nostro signori possono checkpoint è no porca miseria dai 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 che siamo più alti siamo più bassi ha sbagliato le salire la sopra ok stiamo fuori la macchina così diamo lavoro anche ai meccanici no 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 stiamo morendo male stiamo morendo male signori c'è una bomba in arrivo devi morire pure tu male no 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 vinni porca miseria a te quando carichi quando non dovresti caricare sta cazzarola di arma ci vorrebbe un'arma che non va caricata aspetta che faccio un attimo afflambè il tizio ok serie di bombe caffè per noi no occhio no gli è saltato di sopra allora il gangster ce l'ha pure con lo zombie ottimo giustamente gli zombie non sono gangster quindi stiamo parlando di cose diverse però se noi riusciamo a evitare il tizio e a prenderlo dai è così ok forse riesco a farmi fare farmi giustizia ok abbiamo preso in armi armi come se non ci fosse un domani occhio al tizio un'altra volta un'altra volta ce n'è per tutti signori un'altra volta ce n'è per tutti un'altra volta ce n'è per tutti un'altra volta ce n'è per oh con due calcioni è morto ma che razza di vita hanno ce l'hai un altro punto di salvataggio che vorrei un attimino bello così mamma tonda questi devo tirare le bombe mi dà un fastidio ma pure preso e dagli vini carica velocemente star ma dai 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 così in testa ti sparo tu sei messo più in alto teresa pia prima che te mi pigli tu ok morto malissimo va bene o punto di salvataggio pistole per noi caffè piaccia Grazie.